Benvenuti al post partita di Pisa-Palma finita 0-0, una partita che lascia un po' di ramarico in casa crociata perché la squadra ha costruito tanto ma non l'abbiamo gughettiggiato. Questa partita però ricordo che si poteva anche perdere perché il Pisa ha preso una traversa e un paro, un po' causoare, ma l'ha preso. Buona prestazione, ci mancano solo la concretizzazione in area di rigore perché questa partita si poteva vincere. Comunque diamo continuità ai risultati, ora veniamo da tre partite, sette punti, vedendo anche il calendario a parte la prossima partita che ha la regina, uno scontro diretto che devi vincere in casa, le altre partite e giochi con squadra che sono le ultime sette, sei della classifica per cui là devi sfruttare il calendario e vincere quasi tutte. Comunque è un buon primo tempo, Kiki Giola in pratica quasi inoperoso, a parte l'occasione con Tore, però andare a Pisa, noi solitamente il campo di Pisa è sempre sfavorevole, per cui direi che alla fine ci può anche considerare un buon punto. Ecco, non sono questi i punti che noi dovevamo, i punti persi sono in casa con la Ternana a Perugia, quelli che sono i punti persi che potevi essere benissimo primo, quei cinque punti là, una delle due vittorie. Comunque, buon Parma, mi è piaciuto, finalmente siamo squadra, Pecchia lo ridico dopo otto giornate, il nostro valore aggiunto, con Osore e Valenti ne abbiamo subito gol e già questa è un'impresa titanica. Comunque, la prossima sabato con la Regina la bisogna vincere perché giociamo in casa contro una buona squadra, che è prima tra l'altro. Comunque, iscrivetevi al mio canale, purtroppo ora riattiverò anche il primo canale, speriamo, comunque ora ho questo nuovo canale, mi raccomando fate il più possibile passaparola, fate un po' che cazzo che volete, sempre Forza Parma e va a far culo.